Madonna, oggi è una giornata spettacolosa, veramente spettacolosa, quello là sta a fare strascico, vedi con la barca, questo non zoom? No, no. Madonna che spettacolo, bella pene, sto qua le ritresi pure al mare. Che te stai a scegliere i cornetti? Ma un cornetuzzo me lo sparo pure io Ma dove stanno tutti gli altri? Tutti in bagno? Tutti felicemente